Inizio di anno con un appuntamento importante alla Biblioteca Antoniana, venerdì, l'appuntamento è con un libro molto interessante, il professor Tarchi, Anatomia del Populismo. Professore, partiamo dall'ABC, populismo, perché parlarne oggi? Un termine abusato, un termine attuale? Dobbiamo parlarne proprio perché è un termine abusato ed è un termine attuale, entrambe le cose sono vere. Se ne parla molto a sproposito, a volte si utilizza semplicemente questa parola come se fosse un corpo contundente per poter ferire gli avversari, però è anche un fenomeno molto reale, un fenomeno che si è diffuso ormai in buona parte d'Europa ed è anche molto vivo al di fuori del nostro continente e purtroppo, proprio perché lo si utilizza soltanto come un concetto polemico, non si capiscono né le ragioni per le quali ha avuto successo, né le forme che ha realmente assunto, né probabilmente nemmeno le prospettive che può ancora avere avanti. Allora il tentativo è proprio quello di cercare di fare chiarezza intorno a questo concetto. Ecco, lei diceva appunto cosa nasconde poi dopo, che cosa c'è dietro poi il populismo? Dietro il populismo secondo me c'è una serie di crisi molto importanti, c'è una crisi della politica in generale, soprattutto come rappresentanza degli interessi, delle aspettative della popolazione, c'è una crisi di credibilità di coloro che fanno politica, c'è anche una serie di crisi di ordine sociale e culturale. Il populismo è una risposta che si può chiamare naturalmente discutibile oppure si può definire anche non propriamente adeguata, ma è una forma molto interessante di risposta proprio a queste carenze. Il tentativo di riappropriarsi della politica da parte della gente comune, che non ne può più di essere sempre sottoposta a flussi di offerta politica, di promesse, che non trovano nessun riscontro quando poi certe forze politiche sono in grado, andando al governo, di fare quello che avrebbero dovuto fare secondo le loro promesse. Il populismo come termine è usato spesso con una accezione negativa, quasi terroristica, per incutere timore, parlandone e facendone l'anatomia, quindi conoscendolo, può riuscire ad avere e a dare il giusto senso alla parola, al movimento? Io lo spero, rifatti ho voluto intitolare questo libro Anatomia del populismo proprio per andare a fondo al suo significato e a tutte quelle componenti che questa forma di pensiero ha. Penso anche che da questo punto di vista si debba considerare il rapporto che ha con la democrazia, che è un rapporto duplice, molto spesso lo si vede come una specie di alternativa o di minaccia alla democrazia, ma la si può invece considerare proprio come una sorta di termometro di quello che non funziona nella democrazia, che riscontra quindi una febbre e che dà la possibilità di trovare anche delle adeguate medicine per poter curare la malattia. Quindi da questo punto di vista io credo che il populismo possa avere anche una funzione piuttosto positiva per cercare di rigenerare le democrazie che si sono allontanate troppo nella loro classe dirigente dalle istanze, dagli interessi e dai bisogni del popolo. Questo è il prologo. Tutto il resto lo diremo allora venerdì pomeriggio alle 17 alla biblioteca Antoniana col professore Tarchi.